amici di battista 70 phone su vostro suggerimento ho provato installare opera mobile sulla pad google 4.0 kd 05 fornitomi da kingshop italia ovviamente la prima prova la facciamo con il sito della repubblica andiamo ad avviarlo sta ora avviando un attimo di pazienza anche perché sto scaricando una rom quindi ho la banda un attimo intasata ci si sta aprendo in modalità direttamente desktop con una bruttissima notizia purtroppo è morto un calciatore durante una partita allora vediamo guardate che razza di fluidità che si ritrova ho abilitato la modalità turbo o abilitato anche il flash player ora andiamo a ricontrollare perché mi viene il dubbio che non si sia abilitato vista la velocità che ha impostazione opera turbo sempre attivo andiamo nelle avanzate il flash è attivato quindi c'è da dire che sta funzionando a dovere guardate che razza di fluidità proviamo a vedere anche l'adattamento alla colonna proviamo qui doppio tappo che l'adattamento va bene non è proprio perfetto perfetto però come potete vedere reagisce in maniera abbastanza istantanea anche il pinch to zoom sembra sembra un altro dispositivo intanto voglio sottolineare come abbiamo scritto anche nella rettifica abbiamo messo nell'articolo che non è un dual core c'è stato un errore della scheda ma è un single core comunque da con 512 megabyte di ram single core dovrebbe essere da un gigahertz sono letto male comunque il processore è un un arm cortex come potete vedere viaggia viaggia decisamente bene proviamo anche in portrait oltre che landscape possiamo vedere molto fluido non c'è che dire proviamo qui l'adattamento alla colonna qui si adatta in maniera perfetta mettendo in portrait l'adattamento è perfetto e questo è un ice cream sandwich è una risoluzione 800 per 600 ma guardate veramente adesso la fluidità è tutt'altra cosa torniamo pure nella pagina iniziale andiamo a aprire magari anche il nostro sito non velocissimo nel caricamento vabbè questa modalità mobile la velocità ovviamente è molto elevata passiamo al tema regolare non forse non mi ha preso il tocco ok adesso dovrebbe averlo preso siamo in fase di caricamento ovviamente il nostro sito è molto più leggero rispetto a quello della repubblica di conseguenza avremo meno rallentamenti questo è poco ma sicuro se a vedere sempre un'ottima fluidità si sta ancora caricando non sta diventando più pesante il nostro sito di quello della repubblica mi sa che dovremmo togliere qualche banner lo può sistemare qualcosa perché già abbiamo problemi con login e con log out se non ci si mettono anche i banner a rompere le scatole ok vedete comunque l'adattamento avviene in maniera praticamente perfetta ci si è adattato perfettamente vedete anche il pinch to zoom davvero molto fluido con opera mobile sembra veramente di avere per le mani un altro terminale cioè la velocità davvero che non ha niente da invidiare a terminali che hanno costi presso che doppi grazie ancora king shop italia e con questo concluso un saluto da loris ades battista 70 per battista 70 battista 70 fa l'ho Grazie per la visione!